Cosa ci fai qui? Sono qui per Vanessa. Questo non è il momento, Bobby. Mi ha chiesto lei di venire, vero dottore? Cosa? Veramente, è stata una mia idea. Che lei è venuta in mente? Lei non vuole vederlo. Quando Vanessa voleva smettere la chemio, Bobby l'ha convinta a farne un altro ciclo. Sì, e poi l'ha fatto ubriacare. Dimmi che non hai bevuto oggi. Me ne vado. Sì. E viva, e viva la banda al completo. Ciao, bellissima. Ciao. Ciao. Grazie a tutti